La partita si è svolta appunto il 16 marzo 1975, la cittadella di Parma. Noi abbiamo fatto sta partita, era la stessa produzione, c'erano due firme in lavorazione, che erano Salò e Novecento. Ed era una partita appunto fatta per riappacificare Pasolini e Bertolucci nel giorno del compleanno di Bertolucci. Tutti colorati con i colori dell'arcobaleno, mai visti di calcettone. Tutta bella figura, ma tecnicamente stavamo proprio con la ruota per terra, facevamo veramente ridere. Quando era libero veniva, non c'era problema, Pasolini pure alla notte giocava a Pannone, magari pure fanno dormire. E la partitella, non è la partita, è la partitella. Pasolini io con lui ho fatto 15 partite. Pasolini diceva che il miglior poeta dell'anno era sempre il capocannoniere del campionato. Pasolini diceva che il miglior, non c'è consaggio, ma tecnicamente stavoce in attività.